Grazie a tutti. Così queste sono le onde gravitazionali, cioè praticamente, quindi se funzionano guardate sullo schermo, se non funzionano succede un po' quello che è successo, meglio non averli. Allora io posso usarlo, va bene che un uomo parlare in pubblico, muoversi, cioè un maschio intendo dire, e schiacciare questo pulsante, sono tre cose insieme, gli uomini tre cose insieme, quindi c'è qualcuno sotto i vent'anni, tu quanti anni hai? Perfetto, allora tu lo prendi, devi schiacciare il tastino, scherzo, non capace, però si sa male, devi schiacciare il tastino, e quando ti guardo, no, quello è quello da destra. Aspetta, quando te lo dico io, per esempio, proviamo, provo a schiacciare? Grande, sta lì adesso, perfetto. Allora, la scelta non è dovuta, cara Maria Pia, alla partita dell'Inter di ieri, in cui la mia squadra era vestita come delle lattine di Sprite, se qualcuno l'ha vista. Vuoti a perdere, non è dovuta al fatto che ieri sera ero 8 e mezzo in televisione e abbiamo parlato della giunta di Roma e di Virginia Raggi, di quello che sto tornando a Roma, che sarebbe un altro messo perfettamente in tema, no, non c'entra questo. No, io ho scelto questo titolo perché credo che nel rinnovamento capire il fallimento è un modo di parlare del successo, sono sicuro che l'avete capito, e noi abbiamo in qualche modo una sorta di tabù sul fallimento. Una ragazza di una radio di Matera, magari è qui, se non è scappata, mi ha chiesto, ha notato che si usa sempre meno l'espressione sbagliando si impara? Ed è vero. Sbagliando si impara una di quelle frasi che ci ricevono da ragazzi, quindi tu non la puoi sapere, ma io sì. In italiano abbiamo anche eliminato un'espressione, abbiamo paura, perfino le parole sono molto indistruttive, della parola fallimento. In inglese, I failed, vuol dire, c'è sottinteso, ci ho provato, sottinteso, ma non mi è andata bene, non ce l'ho fatta. In Italia abbiamo paura dell'espressione ho fallito, pochissimi usano l'espressione ho fallito perché il participio passato assomiglia troppo al predicato nominale di io sono un fallito. Il fallimento, per chi ha studiato la materia, anche giuridicamente, è un segno che rimane sulle persone in maniera drammatica. In Italia abbiamo dei problemi col fallimento, io non voglio fare nessuna ode del fallimento, anche se devo dire agli Stati Uniti che hanno tanti problemi, io spero che uno grosso a novembre non ce lo scarichino addosso a noi, ma devo ammettere che hanno un gusto del provarci e dell'accettare che se uno, ripeto, fallisce, se non altro ci ha provato. In qualche modo sono sempre disposti a rischiare la sconfitta per vincere, noi troppo spesso, in tutti i nostri mestieri, i nostri atteggiamenti, firmiamo subito per il pareggio, problema. Però non ho nessuna intenzione di farvi l'apologia del fallimento, io sono convinto che sia meglio non fallire, ma se proprio uno vuole fallire, siccome non l'ho mai fatto prima, mi sono preso due appunti per seguire, credo che ci sia proprio una ricetta per il fallimento e mi sono segnato cinque punti. Allora, ci sono cinque cose da fare, se mi seguite con attenzione potete stare certi che qualsiasi cosa provate sarà un disastro. Punto uno, vai, improvvisate. Voi dite, ma l'improvvisazione è una cosa bellissima, attenzione, le idee arrivano improvvisamente, questo è spettacolare, vengono improvvisamente quando la nostra mente non è completamente occupata da preoccupazioni, vengono nel dormiveglia, vengono sugli aeroplani quando ci vanno a spegnere il telefono, vengono in bagno, il bagno è una grandissima fonte di ispirazione, bisognerebbe, quando mi dicono, Beppe, tengo i tuoi libri in bagno, vorrei baciarli, è un grande complimento, prima il bagno, poi la biblioteca. Le idee vengono improvvisamente, potrei tenervi qua tutta la sera, ma so che i tempi sono stretti, dobbiamo andare veloci, Buzzati, Dino Buzzati, un autore che mi è molto chiaro, ha scritto una cosa bellissima, e mi dice cos'è l'ispirazione, cos'è, e lui ha detto, è uno straniero che arriva improvvisamente a visitarmi, è una persona che non conosco, la va personalizzata, c'è tutto un momento pre-creativo, che chiunque ha, penso in tutti i mestieri, in tutte le professioni esiste, ma questa è un'altra cosa, non è, le idee arrivano improvvisamente, ma le idee poi quando dicono, mi è venuta un'idea ma ci devo dormire sopra, grande saggezza. Molte delle idee che ci vengono in maniera improvvisa, esaminate con attenzione, si rivelano una sciocchezza, ma alcune sono le idee che io invito tutti a segnarsi su un taccuino e a portarsi in tasco, qui ti possono cambiare la vita. Io ho mia moglie molto gelosa, non quando sono fuori a cena con una giovane collega, ma quando sono fuori a cena da solo mia moglie è là, perché quando sono a cena da solo ogni tanto mi piace molto, mi metto lì e mi rendo conto che moltissime idee, ho ancora tutti quei taccuini, vengono nei momenti in cui ti puoi staccare. Ma questo non vuol dire improvvisare. L'improvvisa intuizione non è, l'ispirazione è un'improvvisa intuizione, ma poi occorre trasformare, aggiungere, la vera qualità è l'immaginazione organizzata. Noi possediamo come carattere nazionale, a Matero, a Milano, a Mantua, a Marsala e perfino nelle città che non cominciano per M, noi possediamo in Italia una capacità di fantasia che noi vediamo, non è una barzelletta la crevità, forse perché viviamo a Bagnomaria nella bellezza e veniamo da storie di città come queste, ce l'abbiamo. Noi abbiamo, quindi è molto facile per noi, lui l'ha raccontato molto bene, prima quando ha raccontato un iraniano americano che viene in Italia e ne capisce la bellezza e i meccanismi dentro la bellezza. Però attenzione, abbiamo un problema che qualche volta tendiamo a improvvisare, pensiamo che la nostra improvvisa intuizione sia sufficiente, non è sufficiente, occorre quello che gli inglesi chiamano homework. Uno dei grandi direttori dell'Economist, Walter Badgett, il sito Badgett, diceva, per spiegare il successo grande dell'Inghilterra vittoriana e imperiale, diceva, dullness is our line, cleverness is the line of the French. La nostra specialità è quasi la, non dico l'ottusità, ma la prevedibilità, l'intelligenza, ma cleverness è la specialità dei francesi. Voleva dire che gli inglesi sapevano unire, che occorre una regola, tutti gli italiani che hanno successo del mondo non improvvisano, uniscono alla fantasia, al genio, all'intuizione, all'idea improvvisa, la capacità di revisionare, di ragionare su quello che hanno fatto, e questi italiani spaccano, gli altri no. Andiamo. Due, illudetevi. La creatività consente il bluff. La creatività consente di bluffare, con noi stessi e anche con gli altri, esattamente come la seduzione e l'arte moderna, e a differenza del nuoto, del tango e del biliardo, che non consentono seduzione, bluff. Invece, la creatività consente la seduzione, ma non soltanto ingannare gli altri, ma anche ingannare noi stessi. Uno dei veri problemi, e se una ricetta per il fallimento, il punto due dell'ingrediente è l'illusione. Una forma particolare di illusione che sono le interferenze della passione. Non siamo più capaci di giudicare il nostro talento perché è una cosa che ci piace così tanto e che vogliamo farla a tutti i costi. Potrei raccontarvi, non so se so scrivere, forse un pochino sì. Io vi assicuro che... Dico, ma non leggi. Mi manda 400 pagine, ne leggo 10 e dico, mio Dio. E lui dica, no, no, guardi, deve leggere le altre 390. Anche no. Perché un allenatore di calcio capisce dopo due tocchi, se giocare a pallone, un violinista, ho visto passare i violini, io sono di Crema, provincia di Cremona, suoni 5 minuti e sa se... Io non devo poter capire in 10 pagine se tu sei capace di scrivere. No, perché la scrittura consente le illusioni. Uno vuole scrivere, ha una grande passione per scrivere, e cosa fa? Si illude di poter scrivere. Le interferenze della passione sono estremamente pericolose. Un'altra cosa importante è... Ignorate le enormi possibilità che i nuovi strumenti consentono di giudicare noi stessi. Sono più chiaro. I social network mi fanno molto arrabbiare. Io adesso so che quando chiuderò guarderò Twitter. Ieri dopo 8 e mezzo me l'hanno detto di tutti i colori. Ogni volta che vado in televisione capita. Però io ritengo che faccia parte del gioco. Se non superi i confini del codice penale va bene. Se ho voluto giocare a questo gioco, ho 915.000, non lo so, follower su Twitter, ce ne saranno 10 gentili, altri un po' meno, fa niente. Allora, il punto è questo qua. Che molte di queste persone sono utili. Tutto quello che facciamo può essere testato. a oggi come non poteva essere testato prima. Un giornalista... Io ho conosciuto colleghi che hanno creduto per 25 anni di essere il sale della terra perché l'ex direttore, il collega di scrivania, gli diceva che aveva scritto delle cose bellissime. In effetti erano gli unici due lettori. Queste illusioni non sono più consentite sulle cose che facciamo. Quindi illudersi è il secondo ingrediente della ricetta del fallimento. Vai. Poi ti regalo un libro. Irrigiditevi. Forzate. Forzate le idee. Non aspettate che arrivino. Non aspettate, come dicevo prima, il momento bellissimo dell'ispirazione che vi arriva. Forzate. Fatemi venire le idee per forza. Una società di consulenza, non so se sia vero, ma è una cifra affascinante, sostiene che nel 1970 ognuno di noi aveva circa 700-800 informazioni al giorno che gli arrivavano. Adesso è Bain & Cunion, se vi interessa. Adesso sono circa 30.000. Noi siamo bombardati di informazioni di tutti i tipi. Vuol dire che noi siamo estremamente occupati. Quindi la forzatura è già un altro modo per avvicinarsi al fallimento. Volete sapere un altro modo interessante di irrigidirsi? E mi sembra perfetto, visto quello che ho ascoltato prima. Irrigiditevi nei vostri luoghi di lavoro in una classica distinzione del mondo del lavoro in Italia, ma non soltanto in Italia. Quella fra esecutori e inventori. E' una sciocchezza. E' una vera sciocchezza. Io ho i più grossi, le più grosse... Ci sono dei muratori in Italia che sono dei veri artisti. E ci sono alcuni architetti che avrebbero molti problemi a mettere due bottoni uno sull'altro. Io, siccome ho capito che parte di questo gioco di TED è anche mettersi a raccontare... Non ho nessuna difficoltà a dirlo. Io ho condotto un programma televisivo e una delle discussioni che ho avuto è stata di spiegare che c'erano... Gli autori sono i creativi, i redattori sono gli esecutori, quelli che fanno. Io avevo otto ragazzi che erano i più bravi d'Italia, che avevo trovato, che ho avuto la fortuna. In questo devo ringraziare la RAI di chiamarli a lavorare un anno con me. Venivano da tutta Italia, erano, spaccavano. Questi erano i redattori. Avevo dei bravi autori e c'era da preparare il programma di Israele. Una delle mie ragazze era una ragazza che ha vissuto in Israele, stava per tornare in Israele e dovevo discutere per unirla alle riunioni. Ma non è un'autrice. Ma chi se ne frega? E così via. Allora, la distinzione fra autori ed esecutori, tra inventori ed esecutori, è un vero problema. Se avete dei dubbi, io vi consiglio un bellissimo libro che è La chiave a stella di Primo Levi e voi vedete che nelle mani di un artigiano italiano c'è tanta poesia, c'è tanto genio, c'è tanto... e non bisogna rispettarla soltanto così nelle chiave, bisogna... perché se voi accettate l'idea che ogni bravo esecutore, anche un inventore, e ogni buon inventore sa anche fare le cose e immaginarle, siete a buon punto. Quattro. Siate timorosi. Io credo che essere troppo timorosi sia un altro modo di avvicinarsi al fallimento. Molte delle nostre cose più belle che abbiamo fatto sul lavoro vengono da un atto di incoscienza. Ho sentito prima una bellissima apologia della maternità. Avere un figlio è un atto di incoscienza. Se uno ci pensa non ha più figli. Per fortuna il mondo va avanti perché c'è un atto di incoscienza. Quando devi prendere un lavoro e non sai se è giusto, la vita va avanti per atti di incoscienza. Tutte le persone che hanno combinato qualcosa da una bella famiglia fino a un capolavoro hanno cominciato con un piccolo atto di... che non vuol dire responsabilità, vuol dire incoscienza. Ai ragazzi dico volete fallire, venite, proponetevi nel lavoro offrendo sempre e solo la vostra buona volontà. La vostra buona volontà si dà per scontata. Voi dovete portare delle idee, dovete portare la vostra fantasia perché noi, soprattutto con i capelli bianchi, senza... io parlo dei maschi, ma di capelli bianchi, senza capelli, con i capelli colorati, sono tutte le categorie, ne abbiamo molto bisogno. Quindi il timore qualche volta è un modo di fallire e pensare e essere troppo timorosi quando ti offri o ti riproponi. Non sfacciati, ma essere timorosi è un errore. Un altro modo di essere timorosi è avere paura di copiare. Copiate. Ma con intelligenza e garbo. Possibilmente ogni... ogni atto creativo e artistico è una forma di furto. Basta citare il derubato ogni tanto, che è anche cortese. C'era Einstein, ho sentito citare più spesso, diceva che di fatto la creatività è coprire bene le proprie fonti. però... E lo diceva uno, insomma. Però, in buona sostanza, non abbiate paura quando io sento dire che qualcuno vuol scrivere e non legge. Io leggo tantissimi romanzi, leggo anche poesie e non ne scrivo, però mi ha aiutato tantissimo a scrivere. Ho fatto anche l'attore teatrale e mi aiuta stasera, vi assicuro. Quando voi sentite un musicista che non ascolta musica, sareste sbalorditi, così come con un cuoco inappetente. Succede, ci sono persone ed è una forma estrema di arroganza non volere ascoltare, imitare, stavo scherzando, non vuol dire copiare, plagiare e nascondere, però vuol dire che tutto quello che si fa in tutti i campi, la scienza del CERN o CERN come dice lui, noi siamo CERN in Italia, il del CERN o l'archeologia o tutti i campi che avete ascoltati oggi di fatto vengono sulle spalle di quelli che è arrivato prima. qualche volta sono dei giganti sulle spalle dei nanerottoli, più spesso siamo dei nanerottoli sulle spalle dei giganti, ma un giornalista scrittore che non legge, che non studia con amore i buzzati e i montanelli che è stato il mio maestro, i flaiano e i soldati e i longanesi e i barzini è un pazzo. E io e i ragazzi, siccome ho un'età in cui mi tocca farlo, li prendo e gli spiego che devono imparare e leggere queste cose e copiare, copiare gli stilemi, copiare i ritmi e imparare, si impara a scrivere leggendo, si impara a fare i cuochi mangiando. Punto 5, siamo in chiusura, ho visto il tempo, ancora un minuto e mezzo, isolatevi. Io ho scelto un'immagine poetica, ma l'isolamento, questo è poetico, ma in genere l'isolamento non è poetico. io vorrei chiudere su questo punto. Io credo che mescolare talenti e generazione è la cosa più bella che si può fare. Steve Jobs, che di tutto si può dire di Steve Jobs, a parte il fatto che lui di tasse non si occupava e quindi quella è la parte di Apple che mi sta simpatica. Quest'altra è un po' meno. Steve Jobs diceva che negli suoi gruppi di lavoro voleva un laureato in scienze naturali, voleva un laureato in materie umanistiche, voleva un giurista, non più di uno, per carità, ma voleva un lawyer, uno che venisse dalla law school e poi ovviamente voleva i computer scientists, ma li voleva tutti insieme perché capiva che da tutte queste cose che l'intelligenza non è IQ, è capacità di prendere un problema e risolvere e lavorare tutti insieme. Allora, mescolare i talenti, ve l'ho detto, mescolare le generazioni. Ci ho fatto uno spettacolo teatrale, non lo faccio più, ho girato l'Italia, 50 tappe, è la storia di un signore alla mia età bloccato con una ragazza di 28 anni, due liti con un nome dei pazzi all'inizio, alla fine capiscono che possono aiutarsi. Lui prima è paternalista e poi è paterno, che è un passaggio secondo me molto bello e a un certo punto lei dice ma se il mio capo mi dice stai zitta perché hai 28 anni e non capisci un cazzo io gli dico che fortuna che hai, il tuo capo ti sta dicendo di essere un deficiente, allontanati appena possibile da un uomo del genere. perché un uomo della mia età, un uomo che ha un capo di qualsiasi tipo in un reparto spedaliere, in un'azienda, in un giornale, dovunque si ha la fortuna di avere un ragazzo o una ragazza con un'età che comincia per due e che lavora con lui è benedetto, è una benedizione perché un ragazzo che ha un'età che comincia per due e quindi tu fra tre anni adesso è un po' presto puoi portare la fantasia l'incoscienza e il coraggio e tu mio coetaneo puoi portare l'esperienza magari la capacità di sintesi sono un'alleanza naturale che hanno portato un sacco di cose belle e dobbiamo veramente smetterle in questo paese io ci litigo un giorno sì e l'altro pure con persone che mi dicono che ragazzi e ragazze di 28 tu sei un po' giovane ho sentito il vagito devi aspettare un attimo ma per il resto per il resto vi assicuro che a 30 anni a 28 anni a 27 anni si è pronti per quasi tutto soprattutto se si è ben guidati soprattutto chiudo con questo isolatevi vuol dire evitate non accettate di essere incoraggiati e non incoraggiate l'incoraggiamento è una strada a doppio senso se io incoraggio un ragazzo una ragazza lui senza col suo lavoro è come mi guarda è come in quel momento lui incoraggia me e l'incoraggiamento è la cosa più bella ed è la ricetta l'antidoto al fallimento è la capacità di essere incoraggiato e l'umiltà scusate il coraggio di incoraggiare e l'umiltà di essere incoraggiate le persone generose non falliscono mai io vi assicuro volevo chiudere con pensate questo con un'immagine epica sapete cos'è il gesto di Ettero è diventato anche un titolo di un bellissimo film Ettore nell'Iliade a un certo punto prende il bambino si avvicina a suo figlio a Stianatte e lui ha tutto pensate un guerriero ha detto a che fisico doveva avere altro che le palestre di oggi e aveva tutto questo elmo e il bambino è terrorizzato da questo padre sporco forse di terra di sangue e comincia a urlare lui capisce si leva l'elmo lo mette giù il figlio lo riconosce lo prende lo alza e dice una cosa bellissima che nell'ippica non aveva mai detto nessuno dice dei fate in modo che questo bambino sia più forte di me e un giorno lo vedono e dicono questo è molto più forte di suo padre Ettore e questa cosa nell'ippica non aveva detto mai nessuno Ettore è stato ucciso ma Ettore ha vinto non ha fallito Achille in fondo era un uomo solo grazie